C'è qui tipo, se guardi da un'angolazione particolare, c'è un tipo un ramettino che ti fa andare sfocato tutto lo schermo, tipo, una roba strana. Ma io sono attivo, ma non lo posso. Beh, era quello che volevo fare, quindi sarebbe stato comodo. La tattica del professor Jones. No, no. Peglia le frecce. Oh, che palle. All'edizione, bastardi, bastardi. Ha un'arma invisibile. Ma no. Allora. Ah, non cade. E invece... Ah, vedi, mi ha seguito. C'è finito nella zona della Dead Zone. Ah, un altro che mi ha seguito. Salva anche lei. Con i pugnazzi, bellissimi. Mi sto divertendo un casino. Va, valga. Ti ho regalato un combattimento estremo in movimento. Adesso come... Aspetta che metta nella Drone. No, no. Ok. Ma non toglie niente il backstab. No, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Non uccidetelo. Oh. Ops. Che palle. Volevo fare un ingresso costile. Ma do, sai che per un attimo ho avuto l'istinto di fiondarmi giù nel... Nel buccone. Ah, ma attenzione. No, no, no. Ah, eravamo sopra. Ok, allora è un buon momento per... E lì sotto al Dead Zone, forse? Mi sa, credo di sì. Mi sa di sì, eh? Esatto, sì, sì, sì. Ah, vedi, allora è un... E se non l'hai attivato non ti blocca. No. No, no, niente. Eh, perché va... Deve andare un po' più indietro. Eh, sì, fa un passo avanti. E poi tu ogni volta che speri la spell fai un passo avanti. Eh, infatti, fa un passo avanti. Devi andare giù e sto diritto con l'ongolino in fondo. Ok. Oh, che palle. Ok. Ok. Va bene. No, ma chiedi sangue. Bravo, questo è uno come me che ha preso l'oggetto, poi è morto. Devo orientarmi, cosa che non devo fare. Ma bastardo. Ha fatto, va colpiti entrambi, bravissimo. Ah, tu ne ho preso a petto durissimo. Questo no, l'ho tenuto. Eh, che cosa è successo? Ma lei? Non mi ha fatto il backstab? Allora. E chi vuole fare il backstab? Vedi, si è messo davanti. Anche io volevo fare il backstab, ma non mi era fatto. Ah, è caduto! Un'altra volta. Ok. Oddio! Ricky? Sì? Sei sospeso a mezz'aria. Ok, ti siete trasportato via. No, ma Ricky, ho visto una cosa allucinante. Ancora. Ti ricordi quando prima ti ho detto che c'era il tipo che era caduto? Eh, l'ho rivisto adesso. Ricky, per favore. Cosa? Dai un colpo a questa statuetta. Un colpo a questa statuetta? Ok. Sì. Ok. A me non dobbiamo saltare. Sarebbero tornare lì. Ah, erano due! Ma no! Scusa, vuoi toglierci le piccole gioie che il platforming può dare? Sì, tantissimo. E là? No, ci ho sperato di riuscire a fare tutto. Allora, va bene. Andiamo di là. Io giuro che l'avevo visto. E' rimasto paralizzato dalla bellezza del momento, pure lui. Eh sì, perché vedi quello lì? Che li ha appeso sopra, no? Che c'è lì uno da cui luttare, uno di non morto che... Ecco, tipo quello è caduto, però poi in realtà si è sdoppiato ed è caduto. Però lui è rimasto lì. Ah. Ed è la seconda volta che vedo sta cosa. Ok. Pallesatevi, Ragnettini. No? Oh, sale. Guardalo sulla... Bastardo. Che palle. Guarda che si può. Ma... Scendi. Scendi se... Oh. Si sono già trovati prima, tra l'altro, quei funghi. Sì, mi ha colpito. Tu eri attento. Almeno, credo. Non mi fa... Non mi fa loccare. Non posso loccarlo, sto pozo. Oh, l'ho preso. Ma che cazzo... Questo. Oh, frecce. Beh, effettivamente... Però qua ti... Comunque su questa zona ti regala sia arco che frecce. C'è da dire... Che te l'ha detto? Dove l'hai visto? Eh, le ho raccolte. Quindi... Quindi ti dà la possibilità, anche se... Quindi fa bene. C'è un paio... Che succede? Capitan Fingus sta impassito. Noooah! Ma... Insomma, anche con l'anello di Pietro mi riesco a togliere le quelli... Non ho capito cosa è successo. È la spada di... Di... Di Alonio. Sì, però Baga mi ha rubato il momento. Esatto. Esatto. Le palle. Beh, taglialo questo, allora. Quindi, dobbiamo un po' attivare tutto. Ah, mi ha preso in testa. Ma ogni tanto li shotto col backstab, ogni tanto no. Ah! Che cos'è successo? Sì, ma in testa mi ha preso. Che sfiga. Dai, che palle. Ancora. Però, uh, ma è pieno di posti per nascondersi. Mentre guardi Baga che combatte valorosamente nascondersi come un minchione. Baga velocemente... Allora, giusto... Eh, vedi, ho visto anche io quella zona. Prima, con le tartarughe e dei tizi che con lo sguardo cattivissimo che ci guardano. Questo qua sotto. Ah, ehm... Perché ti ci puoi buttare e poi... Ah, ok. C'è quello là, penso. Va bene, sì, sì, sì. Non l'avevo vista. Ma mi sembra che abbia fatto anche il trucco. Non lo so, io subivo passivamente. Non capivo niente. Subivo passivamente. Ah, è una cosa in più. Ah, ok. Ora mi sta tornando. Ora torna qualcosa. C'è la colonna vicina. Erichy potrei morire. Vai. No, io odio i cari che li amo. No! Scusa, Turchi, se si stiamo facendo aspettare, ma... Oh, che palle! Vabbè, se no dimmi. Se vuoi posso cambiare luogo. No, vabbè. Niente, niente, niente. Ok, ho provato a fare una colonna. No, la stagione fa la Turchi. Ok. Ma che palle? Aiuto! Aiuto. Ma non l'ho ucciso? Eh, infatti. Tu serio? Ok, bello. C'è un tipo, c'è un tipo che... Aiuto. 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 Ci ha colpiti tutti e tre. Ah, ok, giusto. Qui c'era un oggetto prima. Vado sbagliato. Non c'è nessuna roba strana. Allora? Aia, che botta! Sì, ti l'hai fatto tu? E mi ha tirato una botta nella schiena. Ti spinge via, tipo... Non troppo! Sì, vaga, anch'io ho rischiato a passare. Io ho rischiato cinque volte nella... Tipo, di morire in quel mondo. Ce la possiamo fare? Ho giocato cinque minuti ad Arsouls 1 e sono abituatissimo al peri del primo. Guarda il duello. Ah, Vexter. Allora, adesso, se non lo fa... Ehi! Ok. Sul coppino. No, ho sbagliato. Ma sto ragno dove è arrivato? A te? Da dove... Ok, va bene. No, non ci arriverò mai. Ci riprovi? No. Allora, perché una... La cosa che mi ha ucciso era un'altra. Però io volevo fare questa cosa, tipo. Ok. E mi son preso l'anello. Vi... Se siete ancora su, vi sto ributtando giù. Ah, mi stanno attaccando! Aiuto! Mi stanno attaccando! Sì, da... No! Ah! Ah! Chi mi sta attaccando? No, e muoviti. Ok. Allora, quindi... Allora, facciamo falò, che almeno, prima di fare altre stronzate, ripartiamo da qua. Ma dopo... Torniamo giù. Ce l'ho ancora nello del gatto? Sì, quindi si può... No, devi far così per scendere, senza perdervi. Ah, esatto. Guarda, vedi? Non ho perso. Vabbè. Aia! Se non le spreco, quando mai le uso, ste cose? Yes. Perché c'è un oggetto lì sotto, che devo prendere. Vedi più. Mentre scende l'altra. Perché magari... Ah, eh, vedi, 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 vedi. Mentre scende questo. Ecco. Sì. Ok. That's the trick! No, ogni... No! No! Perché non l'ha fatto! Ciao! Anche tu sei morto! Aspetta che provo anch'io! Ho avuto un salto lì. Si riesce? No, eh, non ho avuto il tempo. Tanello, ce l'ho? Ho posto. Oh cazzo! Ho fatto una cosa rischiosissima. Rischiosina. No, no, no. Molto più che rischiosina.